... Avvio stazione, scansione ID Bridges, controllo ID. Ok, rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Carico verificato. Grazie. Sei tornato? Gran bella consegna. Gran bella consegna. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accegli al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Grazie. 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 Deposito del veicolo Buongiorno Grazie per il tuo contenuto. Grazie per la visione. 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 Ti devo un favore. Grazie per la visione. 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 Ok Ok Easy, babe Ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non esagerare, ok? Almeno non esagerare troppo Ben fatto Nuovo ordine disponibile Accedi al terminale delle consegne Grazie a tutti 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 Buon viaggio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti